...e che può essere secondo noi un modo per rivitalizzare da un punto di vista dell'industria, mettiamola così, e dell'occupazione del nostro territorio. Quindi, secondo noi, puntare sempre più su queste forme di turismo, magari anche con sostenibile, magari lavoriamo con i ciclisti, magari lavoriamo con il touring, per valorizzare il nostro territorio che sia un turismo da lontano, ma anche da vicino, che siccome siamo a 30 km da Milano, e poi siamo tranquillamente... Questo va su Facebook di sicurezza. E' tutto su Facebook. Non devo fare un video. Bellissimo. Secondo me c'è il video. Quindi, il posto che secondo noi è importante lavorare sul turismo e puntare sul turismo, investire sul turismo, abbiamo poi colto la collaborazione con l'Aprologo per aprire questo punto turistico, che è un segnale forte che vogliamo dare al paese e al territorio, questo è stato fatto da piante grosso, dove le persone possono venire e trovare informazioni sul nostro paese, ma anche su quello che è il nostro circondario. Abbiamo poi qui delle guide volontarie. Assisti e attitudini. Assisti e attitudini. Assisti. 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 A cui va, esatto. Il primo applauso, perché questo è detto possibile solo grazie alla Prologo e a voi, nel senso che per noi, come Comune, è un vantaggio che abbiamo, non oneroso, e che, visti i tempi in cui i comuni stanno vivendo, è veramente una risorsa impareggiata.